Ciao a tutti! Allora, oggi è martedì 9 febbraio e io ho degli esami imminentissimi, perciò non posso fare video, cioè non posso proprio sedermi e fare video, perché non lo so, mi vedete con questa faccia sconvolta, ecco. E tra l'altro, per chi dice che io ho la pelle perfetta, no ragazze, guardatemi, è piena 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 di rossori, poi nel mento ho sempre delle puntine dovute a cattiva alimentazione, perché ho dei problemini di stomaco. Niente, volevo comunque fare un vlog, magari se ci riesco faccio un vlog di tutti i giorni che precedono l'esame, così state con me in questo momento di ansia. Come vedete sono in accappatoio, mi sono appena lavata i capelli, tra l'altro ho fatto una maschera con l'avocado e penso che non la farò mai più, perché ho i capelli proprio pesanti, secondo me domani saranno di uno sporco assurdo e non credo che abbia neanche idratato più di tanto. E finalmente mi sono lavata, perché dai ragazzi manchia che si lava quando si studia. Dunque, allora, nel mio pre-esami non possono mancare stufetta, perché sento sempre freddo, ma penso che sia anche comunque una questione di voler fatta compagnia da qualcosa, e quindi in questo caso una stufa. Tutta, perché se non hai la tuta non sei nessuno, tuta o pigiama dipende, cioè io mi lavo solo per uscire da una tuta ed entrare in un'altra tuta, con la quale poi starò insieme tre giorni. E niente, poi se non può mancare il caffè, perché c'è almeno quattro caffè al giorno. Adesso mi rimetto a studiare, anzi no, è l'una, dovrei mangiare. Ecco, un'altra cosa è che in periodo di esami non si può mai cucinare, quindi io sto diventando una cicciana, perché mangio qualsiasi cosa possa trovare a casa. Pausa studio gallette di riso. Sono gallette di riso ricoperto di cioccolato fondente, io queste le compro o da Lidl o da Eurospin. Non so quanto costino, forse un euro, un euro e cinquanta. Troppo buone. In pratica mangio sempre quando studio. Allora, stavo pensando che sarebbe carino fare un best friend tag, visto che io il boyfriend non ce l'ho, quindi non posso fare il boyfriend tag. E io diciamo che volevo proporlo a due miei amici. Comunque fare un video separato, uno con uno e uno con l'altra. Uno si chiama Simi, Simone, che avete visto una volta nel video dei miei rossetti di Mac, si vedeva tipo in piccolino nello specchio che c'era alle mie spalle. E comunque Simone fa video di magia, quindi lui sarebbe anche felice, possiamo anche fargli un po' di pubblicità. Comunque magari giù nell'info box vi metto la sua pagina di Facebook, perché ha una pagina su Facebook. E poi l'altra è Virginia. Adesso stiamo avendo una discussione io e Virginia, perché lei non vuole proprio apparire nei video. Si vergogna! Allora, glielo dite, lasciate qua giù un commentino con scritto Virginia fai il video con Gloria. Mi raccomando, se lo scrivete magari lei si convince. Cioè chi lo sa, io torno a studiare comunque. Ci tenevo a condividere con voi una massima, che mi è venuta in mente in questo momento. Qui mia madre mi sta facendo fare una passeggiata, tipo avete presente quando dovete portare il cane fuori? Ecco, mia madre mentre quando studia mi fa tipo, viene di pomeriggio e mi dice dai andiamo a fare una passeggiata. Ok, allora, la vita di uno studente universitario è come un pendolo che oscilla incessantemente tra una tuta vecchia e una tuta un po' più nuova. E infatti mi sono messa la tuta! E adesso scendiamo, c'è fortissimo! Ciao a tutti! Oggi è mercoledì 10, mancano solo 5 giorni all'esame. E niente, io qua sto studiando, sono un po' a mare. Ma soprattutto ho un mal di gola perché ripeto, e quando ripeto mi fa male la gola, ma com'è possibile? Mi vedete in questa tenuta a casalinga super fashion. E niente, ieri poi non ho più vloggato. Ho detto a mia madre, ma io a Sesco il cellulare ci mettiamo a parlare davanti a una telecamera. E lei, sì 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 sì, mi va, mi va. Però poi mi vergognavo io. Perché, insomma, può capitare che cammini a Palermo e ti incontra qualcuno. Quindi non mi sento ancora nelle condizioni di poter dire Sì, no, lo faccio come lavoro. Perché non lo faccio come lavoro. Quindi non ho giustificazioni per questa follia di parlare da sola. E niente, qua se volete vi posso ripetere L'avvento dello stato totalitario, che è stato una parentesi all'interno dello stato di democrazia pluralista. Speriamo che la professoressa guardi questo mio video. Così dice, ah ma questa ragazza è veramente preparata. Voglio morire! Comenti meravigliosi in cui mio padre suona il citofono e dico sì. Ehm, Papi, ma stai bene? Vuoi qualcosa da mangiare? Vuoi portato un caffè sì? Caffè? Buono! E niente, io sono disperata! Non fate caso al libro fotocopiato. Non si comprano i libri fotocopiati. Ok, questo è esattamente quello che intendo. Un pezzo, anzi questo è un piccolino pezzo. Con il caffè, ciao a tutti! C'è una faccia terribile, vabbè. Oggi è San Valentino! San Valentino auguri a tutti gli innamorati, a tutti quelli che si scambieranno i regalini. Che cose carine, tutti i cioccolatini. A San Valentino ogni anno si ingressa tipo di 40 kg, suppongo. Però, però si è innamorati e sarà una cosa molto carina. Beh, io non festeggio un San Valentino da sempre. Io non lo festeggerò perché A non ho un fidanzato, B devo studiare, C domani ho un esame. E quindi, niente, sono a Enna da sola e allora ho detto dai accendiamo la telecamera. Sono in condizioni pietose, sono sporca perché domani è il grande giorno, domani ci si lava finalmente. E niente, vi aggiornerò nel corso della giornata e probabilmente vi porterò con me anche domani. Magari non esattamente all'esame, però sarete le prime a sapere come è andato l'esame. Ed eccoci qui, faccia sconvolta, capelli sporchi e coca cola dietro di me. Una sigaretta accesa che non vi farò vedere perché mi sento tipo in televisione, che non si possono dire parolacce, non si può fumare così. Sono le dieci e mezza. Io studio un'altra oretta, sì, dopodichè a Nanna e ci vediamo domani mattina. Io vi mando un grande bacio. Sto pensando di fare tipo un video che si... Quelli di sopra, non so, buttano cose a terra. Comunque sto pensando di fare un video che può chiamarsi tipo... Tipo i dieci cose, non lo so se effettivamente sono dieci, comunque... Come affrontare l'esame, no? Perché io sono in una fase assolutamente REM. Così c'è fase REM? Boh, penso che sì. Vabbè, comunque, ci vediamo domani. Ah, e dimenticavo di dire una cosa importantissima. È come veni si conta. Ciao a tutti! Allora, oggi è 15 febbraio, sto dicendo gennaio, sono le 11.45. Io ho finito l'esame alle 11 e ho preso 28, quindi il vlog continua. Se avessi fatto un voto basso non avrei fatto il vlog. Niente, adesso ho preso un panino, me lo mangio. Poi prendo l'autobus alle... si chiama Pullman, perché dico sempre autobus, alle 2. E tornerò a Palermo in modo tale che possa dormire tutto il giorno. O perlomeno comunque fare cose che non siano studiare perché... BOSTO! Questa è la fase del post-esame in cui sono di un rilassato, che non avete idea. Ho già pranzato, tipo, ho pranzato alle 12. Adesso mi accascio un pochino nel letto e poi tra... Oggi, ora sono le 12 e mezza. All'1 e mezza andrò a prendere il Pullman. Niente, non vado l'ora di... Boh, non fare niente, in realtà già non sto facendo niente. Però vorrei fare un video, non so ancora che video. Non lo so, vorrei fare un video, vorrei editarlo. Mi piace tantissimo editare i video, quindi vorrei fare questo. Poi vorrei, non lo so, farmi una passeggiata, andarmi a prendere il caffè con qualcuno. Vorrei fare un po' la vita, una vita normale, perché da un po' che non esco. E quindi niente, adesso mi riposo un attimo e poi vado a prendere il Pullman. Ci vediamo dopo. Allora, sono di nuovo nella mia postazione, sono nella mia stanza a Palermo. In pratica ho preso il Pullman, sono arrivata per le 4 a Palermo, c'è stato un due orette. E ho un mal di testa, cane! Infatti adesso, perché in realtà sono sveglia dalle 6, cioè... Io non sono abituata a queste cose. Quando andavo a scuola mi svegliavo praticamente tutti i giorni alle 6, ma da quando vado all'università succede solo quando vado a lezione, e solo quando vado a lezione è veramente molto presto, quindi praticamente mai. Quindi adesso mangio qualcosa. Mangio un succo di frutta e questi cornettini, che sono dei cornetti ai 5 cereali di Eurospin, col miele dentro. Ragazzi, sono qualcosa di veramente buonissimo. Cioè, il miele dentro è proprio buono. Non lo so, forse è perché ogni volta che li mangio ho fame, quindi è così. Comunque, io adesso mangio e mi prendo un oki e inizio a sistemare il mio bullet journal, perché tra poco penso che farò un video riguardo a questa sistemazione della vita. E forse ora mi metto a girare il video sul metodo di studi. Ma, chi lo sa? Intanto devo capire che cosa dobbiamo mangiare stasera a cena, perché mia madre non c'è. E' andata a Torino e poi, insomma, a Como. E' andata a vedersi lo spettacolo di mio fratello, perché non so se ve ne ho parlato veramente. Cioè, mio fratello, che si chiama Giulio, e' oltre ad essere il mio attore preferito, e quindi cercatevelo su Google, si chiama Giulio Corso. Niente, mio fratello sta facendo un musical che si chiama Rapunzel, ed è un musical con Lorella Cuccarini. E lui è il protagonista, cioè, la protagonista è Rapunzel, però lui è Phil, il ladro uncolo, non so, vabbè, comunque. E' veramente un musical troppo carino, però la sta girando in tutta Italia, in tutte le città d'Italia, e mi sa che questa settimana è a Reggio Emilia. Non lo so, comunque, se per caso doveste sentire parlare di questo Rapunzel, il protagonista è mio fratello, e mi fa piacere che voi possiate seguirlo come seguite me. E quindi stavo dicendo, mia mamma è stata lì e torna stasera, e mio padre mi ha detto, dai, organizziamo qualcosa, organizziamo la scena. Io in realtà vorrei soltanto morire. Ho sputato un po' ovunque. Niente, vediamo, vediamo un po'. Devo pure montare questo vlog, che sarà veramente inutile, suppongo. Però mi avete forse portato fortuna, perché almeno non sono stata bocciata. Infatti penso che questo vlog avrà, tipo, sapete, quei video, tipo, con il titolo a chi appa visualizzazioni, perché si chiamerà, sono stata bocciata, tipo una cosa del genere. No, in realtà mi è piaciuto girarlo. Io penso che il video finirà qui. Se vi è piaciuto questo video vlog, ditemelo, perché così posso farne degli altri. Non so, a me piace guardare i video vlog. In realtà non è che abbiano chissà quale contenuto, però tengono tantissima compagnia. Quindi fatemelo sapere. Io vi mando tantissimi baci. Vi ringrazio davvero di cuore, perché siete già a 1040, una cosa del genere. Quindi, mille è stato un traguardo davvero piacevolissimo. Cioè, io stavo studiando, ero brutta, l'avete visto nel video. Anche se non ho ripreso tutti i giorni, ho ripreso soltanto due giorni di sporcizia e studio. Però il fatto che siamo arrivati a mille passa adesso, mi ha veramente rallegrata, mi ha fatto affrontare questa sessione di esami, non so, con un po' più di coraggio, con un po' più di autostima, suppongo. E quindi, niente, ragazzi, io vi ringrazio. Se vi piace il mio video, questo, o i miei video, se vi piace il mio canale, non so, fatemi un po' di pubblicità. Nel senso che, condividete i video, mettete tanti mi piace, iscrivetevi, iscrivetevi anche alla mia pagina di Facebook. E ve lo dico, perché è bello il fatto che io e voi possiamo comunicare in un modo un po' più immediato. Sono negata su Instagram, perché qualcuno mi scrive su Direct, ma sono negata, non mi arrivano le notifiche, niente, quindi non so, non è un metodo efficiente per sentirci quello. Facebook lo è di più. Quindi, ragazzi, io vi mando tantissimi baci, grazie per avermi tenuto compagnia, spero di avervi tenuto compagnia, e noi ci vediamo presto. Exoexo, la retro! Ciao!